Ciao a tutte e tutti. Siamo ancora in Sabina con gli amici dronisti di Roma e questa volta visitiamo Fara in Sabina. Fara è un bordo medievale arrocato sulla cima del Colle Buzio, tra i Monti Sabini e la Valle del Tevere. La costruzione delle mura urbane e delle due porte d'accesso risale al XII secolo. Entrando da Porta Romana e salendo per le strette vie del borgo, si incontrano palazzi nobiliari come Palazzo Orsini e si arriva infine a Piazza del Duomo, con la sua torre campanaria, la cisterna e l'edicola. Di fronte Palazzo Brancaleoni, oggi sede del Museo archeologico. Chiude la piazza la collegiata di Sant'Antonino, nota come Duomo di Fara. Salendo ancora si arriva al Monastero delle Clarisse Eremite, uno dei protagonisti del video. Salendo ancora si arriva al Monastero delle Clarisse Eremite, la città di Sant'Antonino delle Clarisse Eremite e la città di Sant'Antonino delle Clarisse Eremite e la città di Sant'Antonino delle Clarisse Eremite. Di fronte a Colle Buzio si erge il Colle Acuziano, detto anche Monte San Martino. Sulla cima si ergono le rovine dell'antica Basilica di Santa Maria Nova. Su una collina più bassa, dal lato opposto al Colle Acuziano, si trova l'ex Comprensorio Cri, un edificio del XIX secolo, inizialmente noto come Villa Rosset, utilizzato nella Prima Guerra Mondiale come convalescenziario per i feriti, e successivamente come preventorio per figli di famiglie in cui era presente la tubercolosi. Questa attività cessò alla fine degli anni 60 del 900, una volta debellata la TBC, e la struttura fu usata come deposito materiali della Croce Rossa. e la struttura fu usata come Grazie per l'attenzione, e al prossimo video. Mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie.